Sabato 5 dicembre si accende la nostra città, si accende per le festività natalizie ormai imminenti, nell'anno probabilmente più difficile che ci ricordiamo da molti anni a questa parte. Un impegno forte è quello dell'amministrazione che ha voluto sostenere innanzitutto il montaggio delle luminarie natalizie in tutta la città, andando incontro ai commercianti, quindi non facendo spendere soldi ai commercianti e creando comunque un clima natalizio che sarà, io credo, davvero gradevole. Al tempo stesso un altro impegno forte a sostegno del nostro tessuto commerciale è quello di garantire la gratuità dei parcheggi nelle prime due ore in tutti i parcheggi cittadini, quindi l'invito che faccio a tutti i riminesi è di venire a visitare il nostro centro, i nostri borghi, la nostra città, perché un motivo in più per visitarla sarà il fatto che la sosta, ripeto, sarà gratuita per le prime due ore e poi tutto insieme di eventi, di musica, di suoni, di poesia, una città che si proporrà al meglio in un anno sicuramente difficile, ma io credo che tutti insieme riusciremo a superare questo momento difficile.